Nella lezione precedente abbiamo studiato il percorso che compie l'aria all'interno del nostro corpo. Adesso vediamo in dettaglio cosa succede iniziando a studiare i polmoni. I polmoni sono due, destro e sinistro, e sono gli organi principali dell'apparato respiratorio. I polmoni sono molto elastici perché si gonfiano e si sgonfiano. In ogni polmone ci sono circa 400 milioni di alveoli polmonari. I polmoni non hanno muscoli ma si gonfiano quando entra l'aria al loro interno perché il muscolo diaframma si contrae o si rilassa. Il diaframma è un muscolo posto orizzontalmente alla base dei polmoni e separa il torace dall'addome. I polmoni sono ricoperti esternamente dalla pleura, che è un tessuto sottile formato da due strati più sottili, uno aderisce al polmone e l'altro al torace. Tra i due strati c'è il liquido pleurico, che permette lo scorrimento dei due strati durante la respirazione, seguendo movimenti del torace. Passiamo adesso allo studio dell'atto respiratorio. L'atto respiratorio è diviso in due fasi, l'ispirazione e l'espirazione. Durante l'inspirazione il diaframma si abbassa, il torace si espande grazie all'azione dei muscoli intercostali e si espandono quindi i polmoni e l'aria esterna entra all'interno dei polmoni. Durante l'espirazione il diaframma si innalza, i muscoli intercostali si rilassano e torace e polmoni si comprimono, così esce l'aria che è contenuta nei polmoni. Nella prima fase, quindi nell'ispirazione, l'aria entra perché la pressione è maggiore di quella interna dei polmoni. Nella seconda fase, quindi nella fase di espirazione, l'aria esce perché la pressione è maggiore all'interno dei polmoni. Il numero di inspirazioni ed espirazioni che avvengono in un minuto si chiama frequenza respiratoria. Un uomo adulto a riposo compie circa 15 o 20 atti respiratori al minuto. Con l'attività fisica e gli sforzi questa frequenza ovviamente aumenta. La respirazione è un atto automatico. Il diaframma si contrae e si rilassa indipendentemente dalla nostra volontà. Riusciamo a controllare la nostra respirazione solo per poco tempo, ad esempio durante l'apnea subacquea. Abbiamo già visto che l'esercizio fisico fa aumentare la frequenza respiratoria e di conseguenza aumentano gli scambi di aria con l'ambiente esterno, cioè aumenta la ventilazione polmonare. La frequenza respiratoria è regolata dal centro della respirazione che si trova nel midollo allungato. Il midollo allungato fa parte del sistema nervoso centrale. L'attività di questo centro della respirazione è influenzata dalla quantità di anidride carbonica presente nel sangue. L'anidride carbonica si indica con CO2. Maggiore la quantità di anidride carbonica nel sangue, maggiore deve essere la frequenza degli atti respiratori per introdurre ossigeno ed eliminare l'anidride carbonica in eccesso. Minore la quantità di anidride carbonica nel sangue, minore sarà la frequenza di atti respiratori per introdurre l'ossigeno ed eliminare l'anidride carbonica. Vediamo dove e come avvengono questi scambi tra anidride carbonica, ossigeno e sangue. Come abbiamo visto nella lezione precedente, la superficie degli alveoli polmonari è ricca di capillari sanguigni. Alveoli e capillari hanno uno spessore sottilissimo che permette lo scambio tra i gas respiratori, quindi ossigeno ed anidride carbonica, e il sangue tramite diffusione. Vediamo come avviene. L'ossigeno si rega all'emoglobina dei globuli rossi presenti nel sangue e tramite la circolazione polmonare arriva al cuore e a tutti i tessuti del nostro organismo. L'anidride carbonica prodotta da tessuti viene prelevata dal sangue e portata dai polmoni, che la eliminano facendola uscire tramite l'espirazione. Abbiamo detto che l'ossigeno non interviene solo nella respirazione polmonare, ma anche in quella cellulare. Abbiamo già parlato di respirazione cellulare quando abbiamo studiato la nutrizione e la digestione. Adesso possiamo vederla in dettaglio. I mitocondri utilizzano l'ossigeno che raggiunge le cellule per produrre l'energia necessaria alla vita delle cellule. L'ossigeno viene utilizzato per bruciare le sostanze nutritive, che ormai sono trasformate in glucosio, e così viene prodotta l'energia sotto forma di ATP. Quindi, durante la digestione le varie sostanze nutritive vengono trasformate in glucosio. Questo glucosio, combinato con l'ossigeno, viene bruciato e c'è produzione di energia sotto forma di ATP. Ma l'ATP non è l'unico prodotto di questa reazione chimica, ma abbiamo anche acqua e nitride carbonica. Questa nitride carbonica viene eliminata dai polmoni, come abbiamo detto poco fa.